ciao ragazze e ragazzi perché perché alla fine quando consegnano di solito coloro che hanno ricevuto la posta dicono sempre c'è posta per te c'è quello quello il postino dice noi diciamo sempre una cosa alla fine no e i destinatari dicono c'è posta per te no cioè dovrei dire c'è posta per me io sono destinatario e dico c'è posta per te dice che mi capisci per te che c'è postino c'è posta per te che si è posta per me io sono destinatario c'è posta per me mica dice il postino sei tu tu che possa per te io dico